ecco adesso entriamo nella casa hai la porta che si apre e qui avete un angolino bellissimo che se volete potete fare mille robe poi vi spiego una cucina abitabile abitabile cucina abitabile il soggiorno soggiorno aria condizionata dappertutto nel soggiorno nelle camere è questo piglio così moderno anche scavata su che belle faretti faretti qua si esce nel giardino qua si esce nel giardino adesso andiamo su al primo piano al primo piano dove c'è la zona notte in realtà c'è un ammezzato con una bella camera matrimoniale bella camera matrimoniale col bagno privato tutto costo anche della vaschetta tutto il vostro poi salendo ci sono ancora due camere quindi in totale sono tre camere con un altro bagno con un totale i bagni sono due tutte con balcone aria condizionata che si facciano sul giardino vado un po veloce perché sennò il filmate lungo seguite il terzo filmato andate a cercarlo ciao sognarì grazie 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 grazie